bentornati sul mio canale benvenuti prima di iniziare il video vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità quindi nel video di oggi vediamo le ultime novità che ci riporta la stampa che ho comprato per voi la stampa di oggi scusate se la luce va e viene ma è così purtroppo l'illuminazione oggi va e viene allora da dove iniziamo vi ricordo intanto che la stampa la potete trovare direttamente dai giornalai io oggi l'ho pagata un euro e 50 un po guardavo su internet volendo c'è anche la possibilità di abbonarsi a un euro al mese che cosa ci dice oggi la stampa effetto colle giù la fiducia in salvini effetto colle giù la fiducia in salvini e conte poi putin e guerra se kiev entra nella nato questi sono i primi titoli e sul confine armato scusate che copro le immagini per copyright sul confine armato delle tre sorelle allora iniziamo vediamo un po che cosa ci racconta di bello cerco di andare un po veloce se non poi diventa lunghissimo questo video putin minacce di guerra perché che giro la pagina putin minacce di guerra cosa ci dice qua putin minacce di guerra il leader russo attacca usa è nato non hanno risposto a nessuna delle richieste se chi entrano nell'alleanza sarà scontro telefonata con draghi gas garantito grazie gas garantito con quello che costa il gas draghi si preoccupa ancora che ce lo tagliano così già costa caro se ce lo tagliano rimaniamo pure senza gas torna la prima volta davanti ai microfoni dopo sei settimane va vladimir putin l'occasione e la visita del premier ungherese victor orban a corso a mosca per fare da pacificatore tra l'unione europea e la russia e poi macron pronto a volare a mosca ma il gas divide il fronte europeo macron pronto a volare a mosca ma il gas divide il fronte europeo la telefonata tra mario draghi e vladimir putin quella tra il segretario di stato americano anthony blinken e il ministro degli esteri russo sergei lavrov la call a4 tra lo stesso blinken il capo della diplomazia web il segretario generale bla 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 cosa dici cosa cosa ci dice cosa ci dice allora un conflitto quasi un'azione su più fronti bilaterali e multilaterali non sempre coordinata tra di loro spinta dal timore di un conflitto e dei possibili danni collaterali tra questi ovviamente la questione delle forniture del gas che sta diventando sempre più centrale e di cui ormai si parla apertamente qui parla del gas poi cosa abbiamo lo zar ha alzato troppo la posta ma non sa uscire dalla sua propaganda lo zar ha alzato troppo la posta ma non sa uscire dalla sua propaganda cosa dice bisogna sempre ascoltare quello che dice vladimir putin e contrariamente alla sua reputazione di enigma avvolto in un mistero il presidente russo è solitamente molto sincero ed esplicito riguardo alle sue intenzioni e paure il suo cosa dobbiamo fare andare in guerra con la nato esclamato davanti alle telecamere è una domanda retorica su uno scenario impossibile rivelatoria di un leader che si sente più incalzato e insicuro che ha servito e all'offensiva ovviamente poi cosa abbiamo sul confine ad alto rischio sul confine ad alto rischio cosa dice qua devo coprire le fotografie sul confine ad alto rischio fra tank e soldati nella steppa che divide ucraina russia e belorussia la chiamano la frontiera delle tre sorelle ma nessuno osa attraversarla entro otto giorni le esercitazioni di putin temiamo un'invasione a sorpresa a meno di un chilometro dalle frontiere delle tre sorelle il villaggio di senkibka sembra un paese fantasma spazzato dalla tempesta di neve che tutto inghiotte e cancella gli unici segni che qualcuno vive in questo ultimo avamposto prima del confine sono i bagliori alle finestre delle poche case lungo la provinciale 28 e da qui che in caso di attacco sarebbero costretti a passare i mezzi militari russi poi cosa abbiamo cercasi vabbè questa è una pubblicità pnr ecco qui parliamo del pnr che mi sembra abbastanza carina come cosa l'ora dei progetti appalti e concorrenza le sfide più delicate questo qua è il titolone questo solo vedete pnr l'ora dei progetti appalti e concorrenza le sfide più delicate draghi vuole il crono programma da ciascun ministro franceschini brucia tutti consegnati i piani per la cultura per comprendere la mole del lavoro basta sfogliare l'ultima relazione del governo al parlamento datata 23 dicembre firmata da mario draghi da qui a giugno occorre realizzare 45 fra 45 fra riforme e investimenti altri 55 fra luglio e dicembre e ci sono appalti concorrenza giustizia ambiente scuola salute digitale cultura ecco sul digitale dopo c'è un articolo che voglio leggervi perché mi interessa sinceramente anche a me se possiamo rispettare i tempi ma servono ritmo e stabilità l'economista luigi giuso l'inflazione può essere un ostacolo serio e quella che un intervista ecco poi qui c'è la corsa agli ostacoli praticamente ci sono i principali piani che devono essere ricompresi nel pnr e si parla di internet veloce al via entro aprile tre bande quindi internet veloce al via entro aprile tre bande tre non funziona una ne vogliono fare tre la connessione veloce a internet è uno dei capitoli più importanti del pnr nonché uno dei più immediati il ministero dell'innovazione della transizione digitale a cinque bandi di gara che valgono 6,7 miliardi di euro quelli per italia 1 no scusate quelli per italia un giga scuole sanità digitale sono già in corso quello per le isole minori è stato riscritto e uscirà nelle prossime settimane così come il bando per il 5 g questi stanno parlando del 5 g e noi siamo ancora a all'uno no perché io quando carico i video va una lentezza allucinante e o la dsl qua ad aosta che in liguria non avendo la dsl vi assicuro perché caricare un video di dieci minuti ci va almeno mezz'ora e questi parla del 5 g ma ma dove volete andare ma dove volete andare ma dove volete andare burocrazia semplice in arrivo 10 miliardi rendere la pubblica amministrazione più vicina ai cittadini obiettivo ambizioso ma fattibile fatemi sapere nei commenti qui sotto se la burocrazia è accessibile ai cittadini commentate qui sotto e fatemelo sapere perché io ho molti dubbi in merito e qui dice che la partita si gioca entro pochi mesi dal momento che la messa a terra del pnr della pubblica amministrazione deve essere valutata entro la fine di giugno poi cosa abbiamo coste mappe e tutela le emissioni del futuro sviluppo dei territori e il nodo delle tempistiche verifiche ogni tre mesi vediamo un po cos'è quello che dice cosa si dice boh va bene non lo so boh a me a me mi che non si può dire comunque a me interessava la questione internet veloce entro aprile vi spicciatevi a mettere su internet veloce perché non ne possiamo più e poi sarà anche veloce ma se non carica c'è tutta la velocità che vuoi come avere una ferrari e andare su una statale di montagna quello è la stessa cosa internet veloce in una statale di montagna piena di curve tanto vale avere la ferrari se tanto non ci può andare veloce il partito di draghi allora qua è troppo pieno di fotografie vi faccio vedere solo il titolo il partito di draghi e cosa abbiamo qua ancora dice svanito il sogno del quirinale c'è un piano per trattenere il premier anche nel 2023 così per chi a chi piace draghi li va bene a chi non gli piace draghi se lo deve ciucciare anche nel 2023 o draghi o matterella in entrambi i casi andremo benissimo nel primo avremo draghi presidente della repubblica una garanzia per sette anni nel secondo draghi resterebbe ancora un anno almeno premier era così che giovedì scorso ragionava tra previsioni e auspici renato brunetta mentre ansiosamente passeggiava in transatlantico e capito ciccio pasticcio poi effetto colle melone davanti a tutti scende la fiducia in salvini e conte effetto colle scende la fiducia in salvini e conte e qualcosa dice boom di fratelli d'italia primo partito al 21 21,1 per cento lega al 16,7 il pd diletta tiene e al 20,8 e dice che la maggior parte degli italiani sicuramente soddisfatto per le elezioni di sergio mattarella alla presidenza della repubblica del resto era la loro prima preferenza da subito seppure ancora sfugge la comprensione della macchinazione che ha portato alla sua rielezione se infatti poi cosa abbiamo a caccia di prove e dossier per screditare il ministro adesso un processo online allora cosa che dice qua allora qua a caccia di prove e dossier per screditare il ministro adesso processo online due scenari l'avvocato caccia il rivale o si vota per un nuovo capo per dirla con roberta la lombardi chi conosce luigi di maio del prima di giuseppe conte ed è già entrata più volte in conflitto con lui stracci a cinque stelle la grande prova di forza questa qua questa notizia qua la grande prova di forza mettiamo raggi al posto del leader movimento cinque stelle così cosa dice le trami di luigi con l'ex sindaca e l'incontro con belloni draghi al colle impossibile i fondi del pnr erano a rischio draghi al colle e infatti ma si sapeva già draghi al colle erano a rischio i fondi che scoperta che ha scoperto l'acqua calda qua è l'acqua calda è già stata scoperta il ministro rimpasso difficile anche letta l'ha capito ora dobbiamo preparare una nuova legge proporzionale cosa abbiamo la sferzata di salvini ma oggi la stampa tutta politica è tutta politica tutta politica la sferza aspettate la sferzata di salvini la sferzata di salvini cosa dice il leader sfida giorgetti e governatori leghisti ora metteteci la faccia poi non chiude le porte ai suoi alleati storici nessuno è un traditore chi ha qualcosa da dirmi lo faccia nella serie opportuna adesso basta con i mugugni che finiscono sui giornali i giorni amari del quirinale pesano ancora il segretario della lega riunisce il consiglio federale per serrare le fila accennare alla strategia dei prossimi mesi e soprattutto per tentare di mettere a tacere ogni possibile focolaio di dissenso matteo salvini apre governatori che avevano chiesto una maggiore un maggiore coinvolgimento ma al tempo stesso manda un messaggio niente controcanto e metteteci la faccia meloni attacca no a federazioni innaturali si no ha detto così no a federazioni innaturali con il proporzionale il centro-destra salta altro che non c'è problema come dice matteo salvini per giorgia meloni di problemi nel centro-destra ce ne sono e come e non è certo che con federazioni innaturali che si può superare quello che è successo con la rielezione di sergio mattarella la della leader di fratelli d'italia è davvero infuriata e non intende chiudere un occhio questa volta ce l'ha con la lega e forse italia gli alleati che stanno il governo con la sinistra e a loro che si rivolge su facebook per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso e che ne so altro articolo matteo non ha carisma è un partito repubblicano non vincerebbe in italia eccolo qua eccolo qua l'articolo ci sono troppe fotografie aspettate sono troppe foto ecco eccolo qua devo fare così per questioni di copyright poi cosa abbiamo attacco all'ariston a mi mancava sanremo mi mancava sanremo ovvio 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 attacco all'ariston attacco all'ariston aspettate quasi gira attacco all'ariston fratelli d'italia critica la decisione di far commemorare a roberto saviano i 30 anni della strage di capace matteo salvini insorge contro la presa di posizione di ornella muti sulla mario mariquana mariquana che non posso dire su youtube sennò come buttano giù video altro che federazione di centrodestra alleanze da rifondare sotto il vestito di giorgia meloni la sfida all'ok roberto saviano domani sera al festival commemora falcone e borsellino si alla mariquana mariquana terapeutica legale legalizzare elimina lo spaccio ornella muti madrina della serata inaugurale del festival si sarebbe aspettata di dover soddisfare qualsiasi curiosità musicale ornella muti madrina inaugurale del 72esimo festival di san remo e invece le tocca rispondere a delle domande sulle su quelle che non posso dire leggere quelle che si fumano che sono leggere e sul conflitto russa ucrania ucraina e poi vabbè c'è tutta l'intervista che non posso dire perché c'ha troppe parole che non si possono dire su youtube poi e comunque ve la trovate sulla stampa questa intervista i manganelli della discordia i manganelli della discordia qua dice le botte agli studenti accendono lo scontro pd e leo la morgese riferisca in aula istituti in rivolta e nuove manifestazioni rischia di scappare di mano al governo la protesta degli studenti italiani i video con le manganellate corrono velocissimi sui social e monta la rabbia da ieri ci sono tre licei occupati il gioberti di torino vabbè torino è un classico non è che una novità il laura bassi di bologna il vittorio emanuele di napoli per rivendicare la possibilità di creare un futuro è una scuola diversi e migliori rivendica l'uds per venerdì poi si annunciano manifestazioni in tutte le piazze italiane i ragazzi si ribellano occupano liceo contro la repressione e tante i ragazzi si ribellano occupano liceo contro la repressione le botte raccontano le non presentanti venerdì mattina troppe per non reagire protestavano il nome di lorenzo parelli 18 anni il ragazzo di udine morto in un cantiere l'ultimo giorno del suo periodo di alternanza scuola lavoro poi cosa abbiamo ma quali cariche erano solo blocchi ora agenti con le telecamere addosso ma quali camere no scusi ma quali cariche erano solo blocchi ora agenti con le telecamere addosso qua dice il sottosegretario leghistani che nicola molteni all'interno se la manifestazione statica non si fanno i cortei siamo sicuri che ci fossero solo studenti e non anche rappresentanti del mondo anarchico e dei centri sociali il video con le manganellate studenti che ne escono insanguinati e poi chi scappa chi piange chi urla al ministero dell'interno li hanno studiati bene anche loro sanno che c'è un enorme problema politico in arrivo e perciò molti cacciano poi vabbè c'è il dj axe con l'intervista basta dad per i vaccinati basta dad per i vaccinati questa è l'immagine portate basta dad per i vaccinati svolta a scuola con due dosi o guarigione si resterà in classe per dare il via il governo aspetta solo l'ultimo sì del cts obbligo di mascherine all'aperto revocato dall 11 febbraio ah sì aspettatene ah sì allora qui dice scuola in presenza la dad diventerà un ricordo per i vaccinati per gli altri da tre casi in su in classe durerà sette giorni cream pass illimitato la durata sarà a oltranza per chi ha ricevuto tre dosi in attesa che l'ema si pronunci sulla quarta e poi sarà la quinta la sezza la sette andiamo avanti così giù le mascherine dall'unce dall 11 febbraio dovrebbero essere eliminato l'obbligo di indissare le mascherine anche l'aperto via il sistema dei colori abolito il semaforo resta solo la zona rossa cambia anche il modo di contare i ricoverati per covi a qui mi sa che la menata sta finendo qui mi sa che la menata sta finendo e poi qua cosa dice niente up e multa da annullare la corsa agli ostacoli degli esentati e questo qua e qua cosa dice tutti gli over 50 sanzionati chi può non vaccinarsi deve dimostrarlo all'asna sicuramente non ne ha aiutati il caso di okovic con la sua esenzione da vaccino anti covi del sapore un po di bufala come se non bastassero le denunce dei medici di famiglia e le indagini delle procure sui furbetti dell'esenzione quelli che grazie a un dottore compiacente hanno girato con esenzioni tarocche l'obbligo di green pass rafforzato per andare al lavoro o anche solo salire sul tram ma per quelli che il vaccino non possono farlo sul serio da un anno è tutta una corsa a ostacoli vuoi perché al momento di dover mostrare il certificato verde per andare a tagliarsi i capelli o entrare in un bar c'è chi storce il naso non si fida e li mette alla porta tra un po leggeremo già già credo che leggeremo i cartelli fuori dai negozi qui non si entra senza green pass come succedeva negli anni 40 e non voglio fare cose però o a fine marzo fine della 40 a marzo no scusate a marzo fine del quarantene la pandemia e ai titoli di coda questo è l'articolo la pandemia e ai titoli di coda qualcosa dice l'ex dg direttore generale dell'ema consigliere di figliuolo l'estate sarà quasi tranquilla troppi morti in alcuni casi il sistema di assistenza a scricchiolato vabbè qua qua è tutta l'intervista qui è tutta l'intervista e poi qua c'è un articolo che non posso dire di quella ragazza di 15 anni coi compagni di classe e compagna bella purtroppo non lo posso dire per problemi legati a youtube olimpiadi la sfida cinese tra due giorni al via tra due giorni il via ai giochi invernali 2022 nuova passerella per xi jinping il dragone cercherà di affermarsi come grande potenza putin ospite d'onore nel 2008 si presentava al mondo oggi pechino non si lascia guidare montepaschi la resa dei conti sull'amministratore delegato va in scena l'ultimo scontro salvini e il 56 di sfidano il tesoro resti bastianini ma prende corpo l'idea l'ovaggio pronta la vendetta delle filiali al sud poi questo non ve lo leggo perché è un titolo che non si capisce cosa voglia dire quindi vediamo un po qua cosa dice ora l'italia cambi pnr non basta questa è un'intervista cultura o entriamo nella sezione cultura quando siamo arrivati 29 minuti tito stagno e la luna aspettate che ci sono delle immagini di tostagno e la luna toccò cosa dice se n'è andato a 92 anni il giornalista che raccontò l'evento in diretta agli italiani a ok quando praticamente c'è stato c'è stata la diretta rai del 20 luglio del 1969 quando diede la notizia dello sbarco sulla luna aveva 39 anni ed era stato a lungo inviato negli stati uniti baricule due baricule parei piero angela la nostra missione era educare gli italiani così diventò un grande personaggio della tv poi andiamo avanti cosa abbiamo di bello programmi tv ok programmi tv fiorello l'amico geniale quasi parli di spettacolo quindi stiamo parlando di sanremo e ci sono troppe immagini che non posso farvi vedere una questo posso farvi vedere fiorello l'amico geniale questa questa qua posso farvi vedere consetto ritorno come mattarella e dire che lui voleva fare the voice senior fiorello si accende fiorello e si accende se il festival fiorello al festival della canzone di sanremo per sancire il suo triplete che si annuncia come uno spoglio quirinalizio madonna che parole tante schede per altrettanti pensierini fiorello che si sente il mattarella dell'intrattenimento costretto a tornare al pari del presidente della repubblica lui all'ariston e l'inquilino del colle al colle vabbè tre ore per raccontare sta cosa poi cosa abbiamo ma sì ho sentito che hanno dato le pagelle al festival hanno capito bene poi sport dna juve una scelta facile ho la stessa mentalità del club anch'io voglio migliorare e vincere sempre di più la 7 di ronaldo era il numero più vicino al 9 cosa abbiamo pagina 36 serie a senza precedente lotito in campo zamparini l'ultimo perdone divorava tecnici e scopriva stelle poi abbiamo qui la sezione valle d'aosta che ve la leggo brevemente per chi fosse interessato e poi comunque c'è anche la sezione torino e tutto il resto quindi vado un po veloce qua covide già ho detto una parola che non dovevo dire ma vabbè qua dice qua il piemonte offre posti letto e la bevaz risponde no grazie buon per te raffiche di vento in quota oltre 90 chilometri allora danni e piste chiuse poi cosa abbiamo siamo al posto così all'offerta del governatore cirio di letti in rianimazione per la valle d'aosta la bevaz risponde possiamo curare tutti ma bisogna cambiare regole e poi qua c'è una fotografia di un barista che io conosco perché io so dove questo bar e conosco anche il barista che adesso vabbè non vi faccio vedere la fotografia perché però è sicuro che questa fotografia è vera e l'articolo ci dice alle poste o al bar con il green pass e tutti in fila per le nuove regole unico problema i certificati scaduti adesso adesso ecco vabbè adesso vabbè l'avete intravisto comunque questo è l'articolo cosa dice in città la gente sembra aver raccolto con una certa naturalezza l'entrata in vigore dei controlli sulle vetrini dei negozi spuntano i primi cartelli che invitano a mostrare il lascia passare e dice che alle poste centrali di aosta i cittadini sembrano accogliere con naturalezza l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per accedere agli uffici sono le 15 e 30 i clienti sono in fila già iniziamo questa storia delle file perché già a me mi girano le balle quando si parla di file non file perché se devo andare in un posto o c'entri senza far la fila o se no si deve pure fare la fila per andare a pagare le bollette non ha neanche senso se volete i soldi e allora eliminate le file sennò per me guardate per me vabbè facciamo perdere bisogna avvicinare al lettore il codice qr una volta letto la mascherina da no scusate bisogna avvicinare al lettore il codice qr una volta letto la schermata dà accesso ai numeri per poter andare ai vari sportelli qualche difficoltà se sta nella lettura del codice bisogna trovare la giusta distanza però qui dice negli uffici più piccoli sarà il cassiere a verificare la validità del green pass vediamo se parla vediamo un po se parla del tabaccai no non parla dei tabaccai oltre 90 chilometri allora i danni piste piste chiuse questo qua era il problema del vento in effetti ieri l'altro ieri c'è stato un vento fortissimo questo qua è l'articolo vento forte 90 chilometri allora danni e piste chiuse la burrasca ha distrutto il de orde un bar a cervinia impianti fermi in molti comprensori sciistici sì comunque è vero c'è stato un vento fortissimo c'è stato un vento fortissimo poi qua continuiamo con l'arte andiamo avanti parte la rincorsa del tordesk jant questo è un articolo che non posso dirvi purtroppo problemi di youtube qui riparla di nuovo della rivolta della scuola che però vi avevo già detto prima e poi abbiamo il tempo il tempo guardate un po questo è il meteo questo è il meteo guardate un po voi non so dove siete non so se si vede comunque questo qua è il meteo la dice nord generali condizioni di bel tempo con cielo sereno su gran parte dei settori da segnalare soltanto le nevicate diffuse sui confini alpini dove il vento sarà impettuoso centro la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente e un cielo sereno o tutt'al più poco nuvoloso sulle regioni peninsulari a tratti coperto invece sulla sardegna venti di maestrale sud la giornata sarà caratterizzata da una certa nuvolosità sui rilievi della calabria sul resto dei settori invece il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso quindi questa era l'ultima notizia della stampa di oggi come sempre vi ricordo che potete trovarla dal giornalario a 1 euro e 50 a oggi se vi interessa potete trovarla la bene con questo è tutto vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto ed attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube vi aspetto ciao